Che sofferenza di troppo, il Piacenza con questa vittoria si scrive di diritto per la corsa alla promozione perché ha un centravanti sempre pericoloso ed un portiere di sicuro affidamento. Prerogative che purtroppo sono mancate oggi alla Salernitana in campo in maglia bianca. Al quarto d'ora il cross di Beghetto, l'avvitamento di Cipriani e si candida protagonista di questa partita. Al trentaduesimo il gol, il lancio è per Cipriani che brucia sul tempo Botticella. Possiamo rivedere questa azione dal basso e intanto vediamo il preciso cross di Tarana, sempre insidioso e sempre fra i migliori in campo e quindi il gol partita. Pioli corre ai ripari e manda in campo, Tulli è caputo ma è sempre il Piacenza l'attacco, è sempre Cipriani di testa questa volta. Dalla parte opposta gli arriva il cross da parte di Patrascu e questa volta colpisce dal basso verso l'alto, pallone fuori. Nel finale siamo al quarantesimo, le uniche due azioni pericolose della Salernitana. Il primo tiro è stato di Longo, il secondo girata di Tulli ma guarda il ben, come dicevo prima, risponde con sicurezza e da campione. È tutto, linea allo studio.